La questione dei lavoratori del centro turistico del Gran Sasso dopo lo stop della funivia per il cambio funi irrompe anche in consiglio comunale perché una delegazione dei lavoratori accompagnata dai sindacati si è recata a Palazzo Margherita dove ha incontrato il sindaco Pierluigi Biondi per una breve riunione, prima con i lavoratori a tempo indeterminato e poi con quelli stagionali. Martedì prossimo ci sarà una commissione consigliare apposita richiesta dal centro-sinistra come il 30 maggio il tema Gran Sasso sarà al centro di un consiglio comunale straordinario richiesto sempre dalle opposizioni. Nessun lavoratore ha voluto parlare dopo l'incontro con il sindaco ma lo hanno fatto i sindacati. Allora da parte del sindaco c'è stato un primo passo verso la rassicurazione per il regolamento e l'adeguamento salariale per i lavoratori che dal primo di giugno non hanno garanzie occupazionali. Noi abbiamo una comunicazione con la prima commissione convocata da Vittorini dove chiederemo spiegazioni su quello che è accaduto questa mattina e cercheremo di avere delle certezze sul futuro del centro turistico dell'Egretan Sasso. Da quanto ci dicono i lavoratori sembrerebbe di sì, ora dobbiamo vedere i termini di questa apertura chiaramente. Noi chiediamo sempre garanzia per l'occupazione degli stessi ovviamente.